sul mio canale di twitch ho iniziato una nuova avventura ho acquistato un account standard edition dove sto giocando esclusivamente in solo questo per far sì che il mio pubblico possa vedere che tarkov è effettivamente un gioco che può essere giocato anche senza un'equip di super soldati alleati al tuo fianco pronti a vincere qualsiasi battaglia tarkov è un gioco di sopravvivenza e questo vuol dire che non tutti i combattimenti vanno affrontati a volte l'abilità basta nell'evitare completamente qualsiasi tipo di conflitto pur di portare a termine una missione quello che voglio farvi vedere oggi è un estratto di una mia live di qualche giorno fa dove con questo nuovo account privo di equipaggiamenti all'avanguardia e armi sofisticate dovevo portare a termine una semplicissima missione una delle prime di therapist entrare nel dormitorio a due piani aprire la stanza 206 e uscire ora siccome non è particolarmente equipaggiato questo personaggio ho cercato di evitare qualsiasi tipo di conflitto perché sapevo che non sarebbe andata bene la run che state per vedere non ha niente di speciale non incontro nessuno ma questo è il bello perché molte volte qualcuno che guarda può pensare cavolo quando lo faccio io c'è sempre 18 persone che mi aspettano nei cespugli cavolo quando lo faccio io è sempre pieno ecco non è la fortuna dello streamer ma è semplicemente conoscenza della mappa e del gioco e vi farò vedere esattamente come ho accelerato alcune parti del ride per far sì che siano un pochino più digeribili perché altrimenti era troppo lungo alla fine del ride inizia lo spiegone dove vi faccio capire esattamente ogni scelta che state effettuata in quel ride e sono sicuro che per qualcuno di voi questo sarà molto utile quindi buona visione 4000 e rotte macio perché lo fabbrico scotti non corre il tipo non 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 Uno scav dentro Grazie Gabbu Eh ma che voglio fare io questo coso? Grazie mille Gabbu degli undici metri Ho aperto il 3 Uso la vegetazione come occultamento Mi preparo l'ingresso nel 2 Libero via Metallo di là Metallo di là La 206 Dovevo solo aprire la stanza 206 Non ci interessa niente di tutto ciò E' un sauce A fine A fine Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, anch'io li trovo. Ma io guardo, Beppe. Allora, vi sto per fare uno spiegone molto importante, ok? Una mini masterclass di customs, in particolare. Allora... Datemi un attimo. Hai visto, Ange? Allora, io sono spawnato qui. So che ci sono spawn qui dove vedete la freccetta, insomma ci sono vari spawn di player qui. Aspetta, vi segno in giallo con la freccetta grossa. Qui, 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 qui e qui. Quindi queste sono tutte possibili postazioni in cui posso trovare dei player. Ora, mentre io mi muovevo in questa direzione, facendo bene attenzione di proteggermi da tutti i vari spawn, a voi magari non ci fate caso ma io mentre vado lì controllo, controllo le zone che devo controllare. Quando ero più o meno in questa direzione, ho sentito commozioni, insomma, spari in questa zona qua. Ok? Quindi, sapendo che ci sono spari in questa zona qua, io ho quasi la certezza matematica che questi qua sono già passati di qua. Per forza, perché non posso... sono quelli più avanti. Cioè, questo qua l'avrei visto, questo qua l'avrei visto, perché mi passavano davanti. Non ho visto nessuno, ho sentito sparare da quella parte lì un SKS, quindi lui è andato avanti ed è in quella posizione. Io, più tranquillo, mi metto a correre e inizio a muovervi sul ponte. Ho sentito poi dei passi qua sotto sul ponte, ho visto uno scav qua che è poi andato dentro il casotto. Non ce ne preoccupiamo. Comunque, mi metto in posizione qua per controllare il mio nemico. Perché nel frattempo ha sparato di nuovo. E quindi io so ormai per certo che il nemico è in questa posizione qua. Lo aspetto due minuti. Non succede niente. Quel PMC è ancora lì. O c'è morto dallo scav o sta combattendo ed è di basso livello, sta facendo un pochino fatica a superare questa zona. Certo, Juru. Non è che l'hai notato. Ho guardato. Se ci fate caso, quando ero sul ponte ho dato un occhio qua e ho visto un tizio, probabilmente questo o questo, che erano già più o meno in questa zona qua. Quindi so che ospedale è compromesso perché c'è questo tizio che ha fatto questo lavoro qua e sta andando qua. Sparato con l'SKS allo scav dietro il carro armato. Qui ed è ha continuato senza luttarlo. Quindi quello corre per ospedale. Io nel frattempo sono qui. Controllo, non si muove. So matematicamente che questa zona qua è libera. Tutto libero. Matematico. Perché il PMC che è spaventato di qua è andato ad ospedale e l'ho visto. Il PMC che è spaventato di qua sta combattendo e lo sento. Quindi mi muovo senza problemi verso la mia missione, che è il dormitore di due piani. Quindi passo dalla conca, perché comunque nell'avvallamento mi rendo più difficile da individuare per il nemico. Passo collina 1 e mi metto di nuovo a controllare in questa direzione. Vengo preso di mira dallo scav che avevo individuato qui, ma lo ignoro perché tanto sapevo che c'era, l'avevo sentito, chi se ne frega. Mi metto a guardare. Mentre mi metto a guardare vedo uno scavino che sale qua sopra. Quindi il PMC che era qua è morto. Non ha più senso neanche guardarci. Ok? Quindi questo qua è morto perché lo scav è salito vittorioso dalla varchetta e questo è andato. Ok, allora continuo per la mia missione. Passo di qui, porte degli alberi che mi nascondono dalle finestre. Passo di qui, uso la vegetazione per proteggermi. Noto la porta aperta, quindi qualcuno è dentro. Io evito e passo la mia missione qua dentro. Chi se ne frega del tre piani. Verifico quello che devo verificare. Entro al tre piani, al due piani. Mentre sono al due piani sento il tipo che esce. E anche questa è una grande garanzia. Perché adesso io so che questo PMC è quello che si è mosso dentro dorm. Quindi, quando lo sento fare metallo, so che sta andando di qua. Non è una preoccupazione, perché è spawnato dall'altra parte. Nessun altro poteva aver raggiunto i dorm dal mio lato. Ok? Quindi, esco dal due piani e mi muovo verso l'uscita. Quando arrivo più o meno in questa zona, ho sentito sparare qui. Questo di qua, l'ho detto, Gero. Fightano qui, fightano probabilmente con gli scav di Bustation. E questi sono probabilmente quelli di questo spawn. Oppure quelli di questo spawn, insomma. Eh, scusate. E' gente che è spawnata in questa zona della mappa. Che si sta muovendo per Bustation. Nessuno da qui fa questo giro qua. Non conviene, sei vicino a dorm. Quindi, sento sparare qua. Io in questo momento so dove sono quasi tutti i PMC della mia mappa. Cioè, io so che qualcuno è morto qui. Uno sta facendo il giro di qua, da Gustation. Farà tutto il suo giro. Quelli di ospedale che passano di lì? No, Nicola. Quelli di ospedale si faceva ancora tutta questa zona qua. E poi da lì probabilmente si muove ad Old Gustation. Chi glielo fa fare è di venire verso Bustation. Quindi, io so che un PMC faceva questo movimento. L'altro PMC già se n'è andato. Uno è morto qua. Io la mia mappa ormai la so. E quindi posso muovermi, posso correre. Certo, sono attento quando raggiungo zone calde, tipo questa. Sono attento quando passo la breccia qui. Sono attento all'uscita. Che sono le zone calde dove magari trovo degli scav player. Tutte le zone con il loot senza chiavi sono zone dove posso trovare degli scav player. Perché chi spawna va direttamente lì. Quindi, a voi è sembrato che io abbia corso, senza sapere, in realtà, ho fatto tutti questi conti che avete visto voi. Ed eccoci qua. Chiaro? Sembra facile. Sembra che... Sembra che magari tu vedi lo streamer e dici Fortunato, mamma mia, io tutte le volte che lo faccio ci muoio, porca miseria. No, ci sono un sacco di minuzie che sviluppi dopo tante... Quindi, quando vedi uno streamer che sopravvive, non è culo, non è che tu sei sfortunato e mori sempre, è che dopo tante ore di gioco ci sono tantissime minuzie per cui quella persona che tu vedi giocare certo è in Tarkov e in Tarkov succedono le cavolate, ma fa in modo che le probabilità siano dalla sua parte. Ok, non sto... Non sono completamente alla merce del caso, cioè vedere dove sono i... Oh, Mizzica, ho trovato un PMC lì. Oh, mamma mia, ho trovato... No, io ho il controllo della situazione. So dove sono e cerco di immaginarmi dove sono gli altri ascoltando. Magari non c'era neanche lo scab boss, giuro? A volte rimani sorpreso perché un PMC è fuori posizione rispetto a quello che ti aspetti, però tendenzialmente questo è. Hai visto Piras? E niente, questo è quanto. Poi, le prime partite che abbiamo fatto con questo account, se avete visto, mi muovevo praticamente sempre in zona nuova, qua. Oppure, dall'altra parte, sconsiglio sempre di passare nella zona centrale perché sei scoperto da tutti i lati, cioè tutti i lati sono pericolosi. Quindi io consiglio sempre di muoversi, a meno che tu non abbia un obiettivo che ti spinge ad andare al centro della mappa, stare ai bordi conviene sempre. Sì, ritorno, ma l'importante è capire com'è fatta questa mappa, ti studi questa mappa e dopodiché tu senti e ti fai una nota mentale e dici ok, ho sentito una cosa qua, per esempio, sento un M4 qui, poi lo sento qui, vuol dire che questo sta andando ai dormi, se invece sento l'M4 qui, poi lo sento a gas, questo sta andando a factory shucks, ok? Cioè, devi ascoltare e ti costruisci il tragitto, diciamo, degli altri giocatori per cui li puoi approcciare oppure li puoi evitare come sto facendo io. Questo è anche il motivo per cui io penso che il silenziatore sia in assoluto la modifica più importante per un'arma, piuttosto zero di ergo ma un silenziatore, perché un silenziatore vale per tutto, return. Un silenziatore, immaginate quanta roba io ho ricostruito grazie al fatto che la gente usava armi non silenziate. Se anche solo uno di questi qua avesse avuto un silenziatore, io di conseguenza non conoscevo la loro posizione e non riuscevo a seguirlo. Soprattutto in solo silenziato è meglio, sì. Ho un SVD che c'è, non ne dubito, non ne dubito. E questo è quanto. Vi ringrazio per l'attenzione, se volete seguire le avventure di questo nuovo personaggio di acciaio sovietico, sintonizzatevi sul mio canale di Twitch praticamente tutte le sere dalle 9 in poi. E niente, grazie per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Bye bye! e ci vediamo